E' fallito un colpo messo a punto nella notte alla stazione di servizio Any Station di Seilletta a Cagliari. Un commando di otto persone ha sradicato la cassaforte del banco ma del distributore e si è dato alla fuga con un furgone rubato in serata a Mara Calagonis. Scatato l'allarme, il furgone in fuga, scortato da una BMW, è stato intercettato dai carabinieri di Dolianova sulla strada statale 387 a Selarjus. Alcuni dei malviventi sono scesi dal furgone e sono scappati al buio per i campi mentre l'auto è riuscita a far perdere le proprie tracce. La cassaforte è stata recuperata intatta all'interno del furgone e sono ora in corso i rilievi tecnici del nucleo investigativo e del RIS di Cagliari.